Pace fatta tra il comune di Chieti e la Chieti Calcio, dopo l'annuncio di ieri della società Nero Verde di emigrare a Dortona per le gare casalinghe del campionato nazionale di Serie D a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco del Guido Angelini, questa mattina c'è stata nella sala stampa dello stadio di Viale Abruzzo una conferenza stampa congiunta del sindaco Umberto Di Primio e del patron del Chieti Giorgio Pomponi per sancire la tregua e porre le basi per affidare alla società la gestione dell'impianto. Il 15 novembre Chieti Giulianova si disputerà dunque regolarmente al Guido Angelini. Uno fa pace quando litiga, abbiamo litigato io Umberto, perciò nel modo più assoluto, sicuramente sono state trafugate alcune frasi dette, da quest'altra parte c'era il malcontento, il comune mai menzionato, noi eravamo soltanto indispettiti dall'atteggiamento da parte dell'altretico e basta. Ha detto bene lui, nessuna guerra, forse un eccesso di passione da parte di entrambi, perché entrambi vogliamo la stessa cosa, vogliamo vincere il campionato, lo voglio vincere lui perché è il presidente della Chieti Calcio, lo voglio vincere io perché sono il sindaco di Chieti e sono tifoso della squadra della mia città. Questo è quello che abbiamo forse ecceduto nel dichiarare, ma al di là di questo c'è la volontà ferma da parte dell'amministrazione che vede nella gestione della Chieti Calcio c'è una chance per anche il futuro dell'impianto dell'Angelini e soprattutto c'è una grande voglia di dare la possibilità alla nuova società della Chieti Calcio di utilizzare l'impianto anche per fare più grande il Chieti. Sotto il profilo tecnico giuridico noi dobbiamo trovare il modo per fare sì che la Chieti Calcio possa gestire l'impianto in modo da rientrare dell'investimento che farà. Per far questo c'è bisogno di una garanzia all'eventuale accesso al credito sportivo o a finanziamenti di altro genere. Il Comune non poteva farsi garante di questa cosa, la società si farà garante anche di questo, quindi diciamo che il Comune ha avuto il massimo risultato possibile, addirittura più di quello che poteva sperare. La Chieti Calcio si graverà di un ulteriore gravame, ma questo se è finalizzato a realizzare il progetto nel quale loro credono e noi crediamo ancora di più, credo che si possa tranquillamente andare avanti.